L'Istituto Emanuele Basile di Morriale si è mosso di fronte alla protesta attraverso un'occupazione, un'occupazione contro la buona scuola, la nuova riforma della scuola, chiamata legge 107. Questa riforma appunto presenta dei punti da noi non condivisi, per esempio il potere ai presidi, ma anche la digitalizzazione delle scuole non efficiente, è il bonus che verrà attribuito a alcuni professori, docenti, da un comitato che appunto è rappresentato anche da una componente alunni, ma che comunque ha solamente il compito di consigliare le scelte del dirigente scolastico. A livello strutturale la scuola presenta anche diversi problemi, per esempio cornicioni pericolanti, ma anche controsoffitti poco stabili.